Mazzina è più dritta, sta merda, se vanno il tiro forte, non devi tenere così con il tiro, che è la dritta, porco Dio, bastardo, deve essere in tutte le cose. Qui dopo censuro, eh. Stavolta cominciate a vedere, non ho cominciato a montare. Signore, questo. Anche. Vai. Dai. 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 Di, dai. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.